Mia Farrow avrebbe preferito che la figlia adottiva Dylan non fosse uscita allo scoperto, tornando ad accusare il patrigno Woody Allen di averla molestata quando era bambina. Avrei preferito che tutto venisse archiviato. Non volevo resuscitare il caso. È stato un capitolo orribile per tutti noi, ha detto l'attrice, arrivando al gala della rivista Time in onore dei cento personaggi dell'anno, tra i quali è stato incluso il figlio Ronan per gli scoop contro Harvey Weinstein e la nascita del movimento Cancelletto Meto. La Farrow ha d'altra parte espresso comprensione e rispetto per la decisione della figlia, sentiva che doveva farlo, voleva far sentire la sua voce ed essere parte del movimento anti-molestie. Le accuse di Dylan contro il padre adottivo erano venute alla luce negli anni 90 durante la incendiaria separazione di Allen dalla Farrow. La ragazza, che per la prima volta aveva parlato pubblicamente dell'argomento nel 2014, era tornata alla carica nel dicembre 2017, chiedendosi in un commento per il Los Angeles Times, come mai il regista fosse stato risparmiato dalla polemica innescata dal caso Harvey Weinstein. Sentivo dentro di me una voce che mi diceva, sono orgogliosa di te, sei stata molto coraggiosa, mentre il mio stomaco si contraeva perché sapevo che molte persone cattive se la sarebbero presa con me, ha detto la Farrow, rivelando che, a differenza della figlia, lei non porta rancori verso i colleghi che hanno continuato a lavorare con Woody Allen dopo la accuse, sarebbe stato diverso se fossero stati amici. Loro sanno cosa abbiamo sofferto. Ma sta agli individui decidere. Ronan Farrow, che ha rotto i ponti col padre, è l'unico figlio biologico di Woody e Mia. Time gli ha reso omaggio per gli scoop del New Yorker su Weinstein, che gli sono valsi anche un premio pulizzerà a metà con il New York Times. È stato difficilissimo per lui. Ha trattato con personaggi pericolosi e ricevuto minacce. Ha perso il lavoro, con la NBC, ma non ha rinunciato alla storia, ha detto la madre.